Buongiorno, e che Dio ci benediva anche oggi. Alleluia. Vogliamo mantenere il messaggio? Grazie a te, Signore. Alleluia. Buongiorno, tutti, Dio. Sì, benedica, tutti quanti, nella grazia. Alleluia. 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 Volevi. Alleluia. L'amera e lo cerco di prendere tutto e lo guarda, amendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliamo godare il Signore anche stamattina con tutto il cuore. Chi è, nelle possibilità, chiuda gli occhi, prega insieme a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche oggi, Padre, veniamo a Te con tutti i nostri problemi, con tutte le nostre anzie, con tutte le nostre difficoltà a Te attraverso il tuo figlio, Gesù Cristo. E vogliamo appoggiare tutto il nostro peso ai piedi del tuo figlio, Gesù Cristo. Sapendo che Tu, caro Padre, accetterai tutto come profumo suave a Te gradito. Consapevole che Tu ci libererai da ogni ostacolo, da ogni difficoltà, da ogni malattia, da ogni dolore. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Grazie a tutti. Benedice ancora quest'oggi e tutta la giornata, Signore, la serata e anche la nottata, Signore. Facci vivere questi giorni meravigliosi, sereni, calmi, tranquilli, in pace con noi stessi, perché abbiamo messo tutto nelle Tue mani attraverso il tuo figlio, Gesù Cristo. E ormai siamo nella felicità, nella tranquillità, Signore, come Tu ci hai dichiarato attraverso il tuo figlio, attraverso la Tua parola, e che se affida a Te non resta mai deluso. E questa consapevolezza che a noi ci riempie già l'animo di serenità, di pace, consapevole che saremo felici, senza ansia, senza preconcetti, senza problemi. Consapevolezza che Tu aiuterai non solo a noi, Signore, ma anche alle nostre famiglie, dove apparteniamo. Tutto il nucleo familiare. Grazie, Padre. Benedice ancora la nostra nazione e tutte le nazioni del mondo, Signore. Gloria a Te, Signore. Ti ringrazio. Padre, per ogni cosa, nel nome del Tuo figlio, Gesù Cristo, che Tu l'hai benedetto e rincororato in Eterno. Amen. Alleluia. Santo sei, Signore. Mi caro e mia ragazza, vi saluto come faccio sempre, con un grande abbraccio e un bacio tranquillo. Che Dio ci benedica, al presto ci sentiremo. Amen.